Sindaco, l'arrivo di 18 migranti nella giornata di venerdì 1 maggio qua a Roseto ha fatto alzare un po' di polemiche qui nella città rosetana anche se nelle ultime ore è arrivata una nota, una lunga nota da parte della prefettura di Teramo per chiarire alcuni punti e tranquillizzare quantomeno qui la situazione Guardi, è stata, ha suscitato allarme io ad un certo punto sono uscito sui social per la semplice ragione che si stava diffondendo l'idea che fosse arrivato un pullman pieno di migranti in realtà con un minimo preavviso telefonico la prefettura mi ha comunicato che arrivavano 18 migranti quindi ho sentito la necessità di specificare, prima che il battage dei social ingigantisse troppo la cosa di specificare che si trattava di 18 migranti certamente io ho spiegato alla prefettura che in questo contesto temporale l'invio di un contingente di migranti chiaramente suscita perplessità nella cittadinanza e quindi penso che sia un momento in cui è opportuno non allocare migranti in una struttura centrale come la nostra struttura sul lungomare Trieste in pieno lungomare è chiaro che l'abbaldanza poi la, come dire, naturale avventatezza dei giovani può portare anche a una violazione delle regole della quarantena quindi ho spiegato alla prefettura che sarebbe meglio per il futuro assolutamente evitare questi arrivi abbiamo fatto tanti sacrifici e non possiamo vanificarli o rischiare di vanificarli per l'avventatezza di magari alcuni giovani migranti cerchiamo allora di evitarlo sono soggetti a quarantena questo lo voglio dire per rassicurare tutta la città e posso anche assicurare che sia la polizia municipale che i carabinieri che il commissariato di Atri competente per il nostro territorio sono stati allertati affinché vigilano sulla osservanza della quarantena da parte di questi ragazzi nello stesso tempo la stessa struttura mi ha dato ambie assicurazioni con una lunga lettera circa il rispetto rigoroso della normativa sulla quarantena e delle normative di prevenzione all'interno dello stesso residence quindi abbiamo a tutto tondo delle rassicurazioni circa la sicurezza per la cittadinanza anche a seguito di questo arrivo comunque ribadisco in questo contesto ambientale di una pandemia in atto non mi sembra assolutamente opportuno che la prefettura invii migranti in strutture così centrali come quella che viene utilizzata presso la nostra città